anche oggi ne abbiamo provate ma non dico tutte oggi giorno lavorativo non è di 30 sono di 7.10 approfitto del cambio dell'orario mi sono svegliato praticamente al solito orario però sto un'ora indietro e quindi adesso ce l'ho mezz'ora per fare quella che ho chiamato la rubrica due lanci all'alba a sto punto diventa la rubrica 20 lanci all'alba perché c'è un po più di tempo andiamo allo spot allora questa rubrica due lanci all'alba nasce da un'idea cioè l'idea è quella di aumentare la frequenza nello spot quindi aumentare statisticamente il numero delle giornate di pesca ovviamente non avendo tempo a disposizione non possono aumentare anche il tempo per ogni singola pescata però l'idea è proprio quella di rendervi partecipe di questo di questo sorte di esperimento cioè dieci minuti al giorno sono sufficienti per tirare fuori la spigola probabilmente per come sta andando adesso direi quasi pare di no e il discorso diventa un po' e il discorso diventa un po' più complesso cioè il discorso sarebbe questo cioè è meglio fare una pescata una volta settimana tre quattro ore decise oppure fare ogni giorno dieci minuti dipende ci sono alcuni che sostengono che in realtà la spigola se c'è con tre lanci viene fuori ci sono altri che invece sostengono un'altra teoria cioè che la spigola vada stanata e che bisogna passare e ripassare più volte al fine di renderla curiosa e far sì che lei attacchi il nostro artificiale io vi posso dire che per esperienza non ho mai preso le spigola al primo al secondo lancio o al terzo ma le ho prese di solito sempre dopo una miglia di lanci è anche vero che più delle volte faccio una pesca etinerante quindi io mi sposto eccetera eccetera l'ultima spigola l'ultima spigola che ho presa a dire il vero io avevo insistito molto in quello spot ho insistito cambiando anche due artificiali se non ho fatto male e la spigola è arrivata al ventesimo lancio quindi non è che abbia attaccato subito l'artificiale a questo punto la teoria che la spigola se c'è attacca subito la vedo un po meno applicabile ecco comunque io continuerò con questa rubrica spero che vi piaccia comunque un modo per farvi vivere il mare magari tutti quelli che stanno lontani dal mare per un motivo per un altro non si possono permettere di di fare appunto di avere la fortuna di poter fare ogni mattina due lanci quindi li faccio anche per voi che magari restate in città ciao ragazzi e vedetevi e godetevi se vi piace questo video ciao una toccatina piccolo orgasmino postiamo e andiamo a provare due lanci veramente al volo in foce poi c'è ragazzi due lanci anche qui e ci siamo guadagnati la giornatina facciamo una foto sempre volante ce ne veniamo qui in foce e facciamo due lanci anche qui a presto niente da fare nemmeno la foce ci permette di esultare il ci permette di esultare il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona giornata e buon inizio di settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.